Professoressa Novelli, professor Sainadi, professor Bennato, l'offerta di questa settimana, giudicata, criticata, analizzata da voi? Professoressa Novelli. Sentiamo anche il professor Bennato da Catania, professor Bennato, l'offerta della settimana. Sì, per quanto mi riguarda l'offerta di questa settimana, vede un sacco di film particolari e diversi che incontrano il mio interesse, e i miei gusti personali, sicuramente in pole position, con sedol di guadagnino, soprattutto per la possibilità appunto di utilizzare un tema come il cannibalismo, per raccontare l'amore, gli outsider, in un contesto, diciamo così, di ampi spazi americani, quindi sicuramente questa è la prima scelta. Poi sicuramente spacca ossa, perché tra l'altro perché ricordo di avere, diciamo così, notato questa notizia di pronacca, e gli essi rimasto, diciamo così, colguito nel senso più duro del termine da questo tipo di evento, e quindi sono anche contento che sia stato utilizzato per traslare, diciamo così, un racconto su violenza e demarginazione. E poi c'è anche, diciamo così, una voce fuori dal coro, perché mi piace molto questa idea di usare l'arte nella fattispecie, la musica, diciamo sia la musica classica, la traviata, anche come modo per raccontare un romanzo di formazione, ma soprattutto un'esperienza di riscatto da un certo punto di vista, almeno quello che mi è parso di capire, da un po' dalle critiche e dai tre che ho potuto vedere. Però quello che mi sembra più interessante è che i film italiani utilizzano l'immaginazione come strumento per interpretare il mondo che ci sta intorno. Ci sono, c'è la cronaca che diventa violenza, ci sono i cannibali che diventano metafora, ci sono anche, c'è un modo, un doppio dell'America, come la California, raccontati invece nella Pendola Badana. Quindi a me questa capacità di utilizzare l'immaginazione per raccontare ciò che invece non è immaginazione, ma è un mondo circostante, mi fa molto piacere che siano utilizzati dai registri italiani. Sentiamo anche il professor Bennato. Qualche volta ci sono delle belle perle. Commento, professor Bennato. Per quanto mi riguarda, diciamo così, io sono contentissimo che in seconda posizione ci sia The Menu, perché l'ho visto qualche giorno fa e mi ha folgorato, sono proprio rimasto appagato dal punto di vista di questo particolare menu in salsa horror, diciamo così, molto affascinante. Poi sono contento per Diabolic 2, perché sicuramente noi abbiamo, come registri italiani, c'è una forte capacità di raccontare l'immaginazione e soprattutto lavorare con i generi. E secondo me il fatto che Diabolic 2 sia in terza posizione è sintomo del fatto che noi possiamo anche ispirarci a una forma di immaginario fumettistico che ci appartiene alla nostra cultura e in quanto appartiene alla nostra cultura anche esportarla in altri contesti in cui l'immaginario legato ai fumetti e penso fondamentalmente a film come Black Panther e Wakanda Forever, sono, diciamo così, di casa. Anche se ritengo che da un certo punto di vista sia molto più, diciamo così, però questa è la mia posizione, è più sofisticato il film di Diabolic che non Wakanda Forever. però... Io f***o.